Grazie a tutti. La cabina di regia con le analisi dei tecnici seguirà poi il confronto tra Governo e Regioni e nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare la nuova stretta per contenere la quarta ondata del Covid. Si va verso il Green Pass di natura diversa per vaccinati e non vaccinati secondo il modello tedesco e anche verso l'obbligo della terza dose per gli operatori sanitari. Una corsia preferenziale per i vaccinati che potranno continuare ad usufruire di ogni attività sociale e ricreativa ed una strada a senso unico per chi ha scelto di non immunizzarsi che potrà accedere solo ai luoghi di lavoro e ai servizi essenziali. Il Governo, anche su pressing delle Regioni, in testa il Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, si prepara a varare il Super Green Pass, strumento che dovrebbe consentire di raggiungere gli obiettivi condivisi da Esecutivo Nazionale e Regioni, Tutelare la salute delle persone e dare certezze agli operatori economici, soprattutto alle porte della stagione scistica, non penalizzando chi ha deciso di vaccinarsi. Bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema e teatri dovrebbero essere off-limits per i non immunizzati, che potranno andare al lavoro e fruire dei servizi essenziali, compresi treni ad alta velocità ed aerei, a fronte di un tampone negativo. Il provvedimento dovrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, fissato dopo la riunione della cabina di regia, convocata per le 11. Sull'entrata in vigore si ipotizza la data del 1 dicembre. Alcuni Presidenti di Regione premono perché il Super Green Pass sia applicato anche in zona bianca. Sul tavolo diversi altri nodi da sciogliere, come l'obbligo vaccinale per alcune categorie, personale scolastico, forze dell'ordine, dipendenti che lavorano negli sportelli della pubblica amministrazione, il tempo di validità dei tamponi, che dovrebbe passare da 72 a 48 ore per il molecolare e da 48 a 24 per l'antigenico, è dello stesso Green Pass. Da valutare, vista la risalita dei contagi, anche l'obbligo di mascherina all'aperto oppure in zona bianca. Intanto parlando della nostra regione in particolare, migliorano lievemente, pur restando sempre sopra la soglia, i dati sulle occupazioni dei posti letto Covid. A livello nazionale resta stabile, pari alle 6,8% la percentuale di letti occupati in terapia intensiva e nei normali reparti. Da parte di pazienti con Covid-19, in entrambi i casi sotto le soglie di alerta, lo ricordiamo stabiliti rispettivamente, al 10% e al 15%. In Friuli Venezia Giulia si registra il 14% di intensive occupate, con una variazione giornaliera del meno 1% e il 18% di posti in reparto, meno 1% anche in questo caso. Emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, che confronta i dati del 23 novembre, appunto, con quelli del giorno precedente. Da questo pomeriggio sarà possibile prenotare la terza dose di vaccino, anche per chi ha completato il primo ciclo da 5 mesi. Non sarà quindi più necessario attendere 180 giorni, ovvero 6 mesi, lo ha fatto sapere il Vice Presidente della Regione Riccardi. A partire dunque dalle 14 di oggi, i cittadini appretenenti alle categorie prioritarie, quindi over 40, fragili operatori sanitari, operatori e ospiti delle case di riposo, possono prendere appuntamento per la terza dose del vaccino anti-Covid, perché siano trascorsi almeno 150 giorni dal primo ciclo. La terza dose, rilevato Riccardi, è fondamentale per proteggerci in una fase di forte ripresa della curva epidemica, mentre continua ad auspicare Riccardi che nel Friuli Venezia Giulia, chi non si è sottoposto ancora alla prima dose, si affidi alla scienza e al buon senso e provveda a prenotarla in modo da mettersi a riparo dalle peggiori conseguenze del Covid. Farà un buon servizio a se stesso, continua Riccardi, ai suoi cari e ai pazienti non Covid, che subiscono le conseguenze di un intasamento ospedaliero evitabile. La circolare di AIFA, sul aggiornamento delle indicazioni dell'intervallo temporale tra il ciclo primario e la dose booster, ridotta a 5 mesi dai 6 inizialmente previsti, è stata diramata questa mattina. Di lui si erano perse le tracce dopo un incidente stradale accaduto la scorsa notte, forze dell'ordine e vigili del fuoco lo hanno cercato per tutta la notte, anche con l'ausilio di un elicottero e dell'unità cinofila. In tarda mattinata è stato trovato a casa dei genitori con un braccio rotto. Il protagonista della vicenda è un 46N di Cividale, che nella tarda serata di ieri era alla guida della sua auto e attorno a mezzanotte e mezza ha perso il controllo della stessa, finendo fuori strada. È accaduto a Orzano di Remanzacco, in via Premariacco. Stordito e ferito, probabilmente in maniera non grave, è comunque uscito con le sue forze dall'abitacolo e si è allontanato dal luogo dell'incidente. Da quel momento di lui si è persa ogni traccia. Nella notte è stato cercato da carabinieri, vigili del fuoco, dopo che la sota è stato attivato anche il personale sanitario e sono stati contattati tutti pronto soccorso senza esito e il suo telefonino risultava spento. Questa mattina è stata anche allestita una base operativa di ricerca vicino alla chiesa di Orzano da parte dei vigili del fuoco del comando di Udine, ma in tarda mattinata si è scoperto che l'uomo era a casa dei genitori. Gli abitanti delle frazioni di Bagni di Lusnizza e di Santa Caterina, nel comune di Malborghetto, Valbruna, saranno evacuati sabato mattina per consentire il disinnesco di un ordigno bellico. Si tratta di una bomba di aereo inesplosa, lunga circa un metro, che è stata trovata a fine settembre sul greto del Fella. Sarà momentaneamente sospeso anche il traffico sulla A23, lungo la Pontebana e sulle strade che attraversano l'area interessata dalle operazioni di brillamento. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco. Le persone che vivono nell'area dovranno quindi allontanarsi da casa dalle 7.30 fino alla fine del disinnesco che è indicativamente prevista per dopo le 11.00. Nessuno potrà rimanere nelle due frazioni, che saranno presidiate da Carabinieri Polizia Locale e Forestale Regionale. L'area era stata già immediatamente isolata per evitare l'avvicinamento di persone al residuo bellico. Saranno gli artificieri del genio guastatori di Udine ad eseguire le operazioni di disinnesco. Recuperati dai Carabinieri di Pordenone due trattori delle valore di 90.000 euro rubati un paio di settimane fa. Da 15 giorni i Carabinieri di Pordenone erano alla ricerca di due trattori rubati in altrettante aziende agricole di San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto d'ingente valore circa 90.000 euro. I mezzi, un giondiere e un cubotto a narro, erano stati rubati nella notte tra il 6 e il 7 novembre. Un furto particolare che aveva allarmato gli agricoltori della zona. Dopo due settimane di indagini, gli investigatori del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pordenone, con la collaborazione dei militari delle stazioni di San Vito, Fiume Veneto e Azzano Decimo, sono riusciti a recuperare i due mezzi da lavoro, individuati nelle campagne azzanesi all'interno di un capannone industriale dismesso da molto tempo. L'area furtiva è stata restituita, così, ai legittimi proprietari, che hanno ricevuto con gioia la notizia del recupero, visto il grande valore dei mezzi, peraltro non coperti da polizze assicurative contro il furto. I malviventi, grazie all'intervento degli uomini dell'arma, hanno così dovuto rinunciare a recuperare il bottino che avevano appunto nascosto nella campagna pordenonese in attesa di trasportarlo altrove. Continuano intanto le indagini per rintracciare i ladri. Il servizio taxi è fermo in tutta Italia per lo sciopero indetto da tutte le sigle sindacali. Dalle 8 alle 22 di oggi, lo riferiscono i sindacati delle auto bianche, la mobilitazione riguarda anche la nostra regione e gli aderenti al consorzio dei taxi di Udine si sono dati appuntamento nel piazzale della stazione dei treni del capoluogo friulano questa mattina. A livello nazionale la protesta culminerà nel corteo organizzato a Roma e al centro dello sciopero c'è il disegno di legge concorrenza colpevole secondo i tassisti di deregolamentare ulteriormente il settore a favore delle multinazionali. E' morto la scorsa notte a 81 anni Ennio Doris, il fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. L'imprenditore fu anche proprietario al 50% con la famiglia Andretta della Torvis di Torviscosa. Era nato a Tombolo in provincia di Padova nel 1940 e per oltre 40 anni è stato indiscusso protagonista della grande finanza italiana. Ennio Doris e Renato Andretta nel 1997 comprarono per 96 miliardi di lire l'azienda agricola Torvis dal dissestato gruppo Ferruzzi. Proprio il socio Renato Andretta spiegò qual era l'interesse del banchiere assicuratore. Con queste parole è nato a Tombolo ed è il figlio di un mediatore di bestiame. Siamo amici da ragazzi, non ha seguito le orme del padre ed è nato in banca ma è rimasto un tombolano con la passione dell'allevamento. L'azienda agricola di Torviscosa ha una lunga storia. Fu fondata nel 1937 ai tempi del fascismo a seguito della bonifica delle paludi ordinata dal Duce. Il sito produttivo della Torvis chiuse nel novembre 2016 quando era di proprietà del gruppo Parmalat. I 20 laboratori furono trasferiti all'ex latterie friulane a Campo Formido. A Udine resteranno invariate per il prossimo anno le tariffe dei servizi di assistenza domiciliare e consegna pasti a domicilio. Lo ha stabilito la giunta Fontanini che si è riunita questa mattina a Palazzo d'Aronco e come spiegato dall'assessore all'assistenza sociale Giovanni Barillari il comune di Udine ha deciso di confermare anche per il 2022 il sistema di compartecipazione parametrico per cui le tariffe vengono individuate sulla base del ISEE. Nello specifico, ha precisato Barillari, si va con il meccanismo della progressione diretta della gratuità garantita che ha un ISEE fino a 6.000 euro fino alla compartecipazione massima per chi dichiara 30.000 euro quantificata in 20 euro all'ora per il servizio di assistenza domiciliare per la quale il costo è calcolato su uno solo dei due operatori che interverranno e in 8,15 euro a pasto per il servizio di consegna a domicilio. Una fotografia del bambino portato in grembo sarà scattata e donata a tutte le mamme in dolce attesa che sabato prossimo parteciperanno alla speciale giornata di vaccinazione anti-covid all'ospedale di Udine. L'appuntamento vaccinale dedicato alla salute delle future mamme è previsto appunto per sabato dalle 14.30 alle 16.30 al piano terra del padiglione 1 nell'area prelievi. Per le donne in gravidanza è prevista la somministrazione del vaccino Pfizer. saranno presenti i ginecologi e ostetiche a disposizione per informazioni e chiarimenti in merito. Le pazienti che accederanno alla vaccinazione potranno inoltre, se lo desidereranno, avere una fotografia dell'effetto acquisita con ecografo. Si tratta di un vaccino che contiene mRNA, non il virus, e quindi non ci sono motivi che controindichino il suo utilizzo, spiega la direzione di ASUFC. In considerazione delle crescenti evidenze sulla sicurezza delle vaccinazioni in gravidanza sia nei confronti del feto che della madre, dunque noi raccomandiamo la vaccinazione conclusa a tutte le future mamme. Ci fermiamo qui per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo tra poco l'appuntamento con a voi la Lina per gli approfondimenti delle notizie del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.